Per gli amici di Azzeta Informa, Don Alberto Ravagnani, nel cuore della città dell'Aquila, piazza Duomo, perdonanza celestiniana. Don Alberto, un linguaggio giovane, vicino ai giovani, è diventato davvero virale sui social, per alcune sue riflessioni, anche abbastanza provocatorie, mi viene in mente una su tutte, alcuni problemi dei giovani vengono causati anche negli adulti, ecco mi ha colpito questa riflessione, una sua idea che magari può ribadire per il lettore di Azzeta Informa. Allora, i giovani hanno un certo posto all'interno dell'economia del mondo, mandare avanti la specie umana, innovare, dare energia, novità, forza, fuoco. Gli adulti invece sono quelli che sono stati giovani, hanno maturato l'esperienza, hanno la consapevolezza, sanno soppesare i passi. Bene, il colpito degli adulti è aiutare i giovani ad essere ancora più fuoco o dirompente. Spesso volentieri invece tanti adulti giocano a fare giovani, vogliono loro prendersi spazi, tempi, occupare posizioni e questo un po' è rispettoso credo nei confronti di chi è più piccolo e deve prendersi giustamente su spazio perché è la vita che glielo consegni in mano. Quindi credo che oggi ci sia bisogno di questo fondamentalmente, che gli adulti imparino a fare gli adulti, ad aiutare i più piccoli a diventare grandi e i giovani invece trovino dentro di sé la forza di essere nuovi, dirompenti perché c'è bisogno di novità in questo mondo. Grazie.